L'impegno è enorme, la concentrazione pure, idem la voglia di benfigurare in un contesto agonistico di notevole prestigio e caratura nazionale. Prosegue senza intoppi la marcia di avvicinamento dei Mad Bulls al campionato di second division di football americano, continua con sedute d'allenamento agli ordini del coaching staff coordinato dal capo allenatore Ugo Calò, intense e improntate sulla cura dei particolari. La FIDAF, la federazione di riferimento, ha comunicato intanto abbinamenti e date per la nuova stagione, la seconda avventura della storia nella seconda categoria nazionale per i tori matti del vicepresidente Manuel Marzocca, prenderà il via ufficialmente tra poco più di un mese, per la precisione, il 24 febbraio in occasione dell'abbinamento casalingo contro gli Storms Pisa, realtà che ha assorbito gli Etruschi Livorno. La composizione dei raggruppamenti, svelata nei giorni scorsi presso l'impianto dei Guelfi a Firenze in occasione delle finali dei campionati giovanili, ha visto i Mad Bulls finire nel girone B in compagnia anche di Pretoriali Roma, franchigia nata dalla fusione di due squadre della capitale, Gladiatori Roma e Barbari Roma Nord, e Cefs Ravenna. La compagine della sesta provincia affronterà le tre avversarie del proprio raggruppamento sia all'andata che al ritorno, in più sfiderà una sola volta le due rivali degli incontri interdivisionali, in casa i Bengals Brescia, in trasferta i Castelfranco Cavaliers, sodalizzi con grande blasone ed importante ranking nazionale. L'obiettivo, inutile nasconderlo, è quello di centrare la prima storica vittoria in Second Division, il sogno nel cassetto invece è quello di provare a giocarsi le proprie possibilità di qualificarsi ai play-off sino al termine della stagione regolare. Ecco perché i tesserati dei Mad Bulls, al lavoro già da diverse settimane, si stanno impegnando al massimo in allenamento e lo faranno anche tra due giorni nella tradizionale seduta domenicale del Centro Sportivo League. Chiara l'intenzione di arrivare già al top della forma per la sfida del Manzi-Chiapoli incontro gli Storms-Pisa, anche perché vale pure per il football americano, chi ben comincia è già a metà dell'opera.